Non può mancare il video che vediamo insieme. La Umbra Group punta molto sul welfare, che è strutturato su tre pilastri, dipendente, famiglia e comunità. Al dipendente offriamo una mensa aziendale, un'assicurazione integrativa e un premio di risultato convertibile in servizi per il dipendente e per la famiglia. Alla famiglia offriamo un orario flessibile, un campus per i bambini e i dipendenti per tutto il periodo estivo e un circolo ricreativo dei lavoratori che permette di socializzare e di avere convenzioni con alcuni negozi locali per aumentare il potere d'acquisto di ogni singolo dipendente. Alla comunità offriamo un'area veda attrezzata dove praticare lo sport. Agli studenti offriamo due possibilità di vivere Umbra Group, una attraverso la Business Week con una full immersion dedicata alla gestione del business e l'alternanza scuola-lavoro per provare i nostri sistemi produttivi. Ho la fortuna di lavorare in un'azienda che è molto attenta alle politiche di welfare e che mi ha messo a disposizione part-time e orario flessibile. Dall'anno scorso l'azienda ha implementato anche una piattaforma welfare attraverso la quale sto chiedendo rimborsi per le rette dell'asilo nido e sicuramente lavorare per un'azienda che è al centro della persona è un grandissimo privilegio e una grande tranquillità. E allora Umbra Group lo premiamo per il campus estivo per i figli dei dipendenti e ritirare il premio è Carla Odoardi, direttore delle Carlo. No, io ormai mi sono abituata al fatto che ci sono tutte donne. e scusi, e stavo proprio riflettendo, dicevo ma guarda sono tutte donne quelle che premio, che bello, invece poi è arrivato lui. Allora a premiarla è un altro maschietto, Marco Magnani, e no no, abbiamo deciso che stavolta sono due maschietti che vengono premiati e vi prego di fare una foto insieme. Senta dottor Odoardi, il sogno credo di ogni famiglia che lavora è avere un posto dove i bambini d'estate possano avere una giornata interessante senza lasciare le mamme e i padri con l'angoscia di dove lo metto. In Francia ci pensa lo Stato, adesso in Italia ci stanno pensando sull'azienda, mi sembra una bellissima cosa. Oltre a questa iniziativa, diciamo Umbra Group pone molta attenzione ai giovani, quindi dall'età ai 4 anni ai 13 anni per il campus al quale lei faceva riferimento, però altra iniziativa da diversi anni è proprio con la ricaduta e l'impatto sulla comunità, diciamo, locale, dove ogni anno formiamo 120 giovani, studenti delle scuole medie superiori, a intraprendere un percorso formativo all'imprenditorialità. E questo ha un duplice aspetto, uno è quello di avvicinare i giovani ovviamente al mondo del lavoro, ma anche quello di favorire e di dare spinta delle start-up a delle idee nuove, interessanti e che in qualche modo Umbra Group può anche catturare all'interno e questa idea innovativa può trasformarsi in qualcosa di concreto. Come diciamo nell'hashtag è una situazione win-win. Win-win. Grazie, grazie, grazie a Umbra Group e a Carlo Odoardi con la O. Con la O.